In questa puntata, violenza di genere e legge, la presa in carico e la rieducazione degli autori. Il Corecom Tour fa tappa a Siena. Le donne indaco e il teatro per tutti. Presentato il libro Oltremare, racconti di banchina. Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza la nuova legge per la presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere a favore PD, Italia Viva, Fratelli d'Italia, Stenuti, Lega e Movimento 5 Stelle. Quali sono le novità? Le novità sono essenzialmente due. La prima si riconosce il ruolo di vittime per coloro che assistono violenza e l'altra si istituiscono a livello regionale gli elenchi dei centri per gli autori di violenza. Da questo punto di vista si è resa necessaria una revisione della normativa del 2007, una normativa a cui aveva lavorato ai tempi la regione toscana e che era una normativa all'avanguardia, che aprì anche una strada per le altre regioni per una legislazione nazionale in materia, che aveva necessità di essere adeguata anche alle ultime novità intervenute a livello anche internazionale, a partire per esempio dalla Convenzione di Istanbul. Quindi da questo punto di vista la convergenza tra il lavoro del Consiglio e il lavoro della Giunta, un gruppo di lavoro con il coinvolgimento anche della Commissione pari opportunità e del Comitato regionale contro la violenza di genere ha portato all'approvazione appunto di una modifica normativa su questi due aspetti e dall'altro su un ordine del giorno altrettanto importante nel modo di vedere laddove si va a determinare ad avviare un percorso per un'ulteriore revisione complessiva dell'impianto normativo del 2007 e si incentiva la promozione di una serie di percorsi nelle scuole all'insegna del rispetto reciproco e della non violenza. Il concetto, il pensiero è sicuramente importante e noi siamo sostanzialmente d'accordo, non nelle forme in cui è stato proposto perché ci siamo astenuti, ci eravamo astenuti in Commissione volendo valutare un pochino più dettagliatamente l'argomento. La legge 57 del 2007 secondo noi è già sufficiente o meglio è migliorabile ma non con questa proposta di legge e con questo ordine del giorno perché sostanzialmente non dice molto. L'ordine del giorno eravamo anche disposti a votarlo però era fin troppo specifico nella narrativa, cioè si parla di maschilismo e noi avevamo chiesto di togliere questa parola perché era nella narrativa già un giudizio, c'era già bullismo e era giusto, sessismo e era giusto, rispetto della persona e era giusto, ma maschilismo sembrava quasi dare una sentenza in quella che era l'argomentazione, per cui ci siamo astenuti. Approviamo questa legge a poche ore di distanza da un altro drammatico femminicidio che si è consumato in Toscana. È qualcosa che sconvolge le nostre coscienze e che ci invita a fare qualcosa di concreto immediato nei confronti di tutti quelli che sono le vittime, ma soprattutto anche per chi esercita questa violenza e dovrebbe essere l'obiettivo anche di questa proposta di legge che purtroppo, per come è stata impostata, per la mancanza assoluta di finanziamenti ulteriori che appunto non sono previsti e non sembra essere rispondente a quelle che sono le drammatiche esigenze di questo momento storico. Ecco il motivo per cui, seppur a malincuore, abbiamo dato un voto di astensione, anche perché all'interno di uno di questi articoli c'è un riferimento a uno sforzo di ricongiungimento relazionale che a nostro avviso può essere anche pericoloso, va contro anzi quelle che sono le raccomandazioni degli esperti che invitano a non fare quell'ultimo incontro, quell'ultimo appuntamento e di lasciare che le strade di due persone si separino, specialmente quando in mezzo ci sono anche dei minori. Ecco il motivo per cui con dispiacere ci siamo astenuti, ripromettendoci però di intervenire di nuovo su questa legge. La violenza di genere è un problema che vede l'Italia sempre più coinvolta, purtroppo è un problema che sta crescendo e è cresciuto a dismisura durante la fase del Covid e nel periodo immediatamente successivo. Non passa praticamente il giorno che le cronache non riportino, se non un femminicidio o comunque attacchi violenti nei confronti delle donne. È importante che sia possibile per queste persone che riescono a denunciare la violenza e vogliono tornare a rappropriarsi della propria vita, che sia possibile per loro raggiungere facilmente i centri ed essere inserite in percorsi che gli permettano di ritornare ad una vita serena, di rappropriarsi della propria vita e quindi di guardare con fiducia al domani. È altrettanto importante che le persone che invece vengono a compiere questi atti, gli uomini, sia possibile anche per loro un percorso rieducativo attraverso quelle strutture che hanno tutti i criteri accreditati presso le regioni e negli accordi fatti tra lo Stato e la regione. Io però ritengo che questo sia un tema che vada affrontato nelle scuole direttamente dalle elementari, perché bisogna crescere la cultura del rispetto, non bisogna arrivare al punto di dover rieducarsi, dobbiamo proprio educarci affinché questo non debba mai accadere. Ed è importantissimo che le scuole abbiano un ruolo determinante perché molte persone dicono sì ma io mio figlio lo educo, è vero tante persone educano i propri figli come si deve, ma purtroppo chi nasce in una famiglia violenta non ha questa possibilità di essere educato in casa. Io credo che l'Aula oggi anche con il voto favorevole di Fratelli d'Italia, che forse su certe questioni a volte appare non così scontato, in realtà ci siamo assunti la responsabilità di dare un segnale politico importante. Oggi con la proposta di legge che è stata votata, l'iniziativa della maggioranza, anche in Toscana a completamento di quella che è la legge che già prevede i centri per la violenza e quindi anche per l'accoglienza delle donne vittime di violenza, oggi introduciamo anche delle strutture che possano in qualche modo supportare anche la reeducazione e la presa in carico degli uomini che in qualche modo sono coinvolti in dinamiche di violenza domestica. Io credo che questo intervento debba essere eletto a completamento del quadro regionale ma soprattutto debba essere eletto non solo in un'ottica di prevenzione ma soprattutto debba funzionare anche per la presa in carico ad esempio di persone che nel 90% magari si sono macchiate anche di reati proprio su queste materie, quindi sul tema della violenza. Ecco, noi come Consiglio regionale abbiamo dato un segnale anche di evoluzione sotto questo aspetto e se davvero vogliamo che questi centri funzionino devono avere anche una funzione estremamente reeducativa, ripeto, magari nei confronti di persone che hanno anche commesso reati, oltre a una finalità di prevenzione. A Siena, ottava tappa del tour che sta facendo il Corecom nelle province toscane, a Palazzo del Governo si è tenuto l'incontro con le istituzioni, gli enti, i media locali, le scuole, le associazioni, le imprese e i cittadini. Le attività del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni regioni toscana non sono sempre pienamente conosciute come meriterebbero, per cui abbiamo deciso di fare questo tour nei territori, di andare in tutte le città capoluogo della Toscana per mettere al corrente di quelle che sono le funzioni principali. Una è quella della vigilanza sulla programmazione radio-televisiva che poi trova anche un significato particolare durante la campagna elettorale in occasione della par condicio. E poi ci sono tante altre funzioni legate al tema, per esempio, dell'educazione digitale nei confronti di ragazzi delle scuole medie attraverso il patentino digitale, facciamo uno dei corsi di alfabetizzazione digitale per navigare in modo consapevole e sicuro e sappiamo quanto questo tema sia importante sentito anche in questa fase attuale. E poi tante attività tra cui una che impegna molto il Corecom di grande ricaduta sulla vita quotidiana dei cittadini che è quella del concilia web, vale a dire il fatto di svolgere una funzione di conciliazione a titolo gratuito tra i cittadini e le compagnie telefoniche rispetto a tutte le problematiche che possono sorgere. Tante attività, tante funzioni e noi chiediamo andando in giro nei territori anche una collaborazione all'istituzione perché poi questi servizi anche attraverso i territori e le istituzioni locali siano conosciuti e possano essere utilizzati. E' importante far conoscere quelle che sono le iniziative del nostro organismo di garanzia, il Consiglio regionale della Toscana ha più organismi di garanzia, questo specifico sulla comunicazione e non solo, rispetto anche a tutta la conoscenza dei nuovi metodi di comunicazione, la comunicazione sta cambiando e come tale ci sono tutte le testate giornalistiche, radiofoniche, non solo, c'è tutta la questione dell'online, c'è tanta comunicazione da dover garantire, oggi il tema della comunicazione è diventato veramente fondamentale, c'è tutta l'alfabetizzazione digitale rispetto ai nuovi strumenti di comunicazione, serve un organismo che sia regolatore, sia di garanzia, sia di supporto alle istituzioni, al mondo delle associazioni, alle imprese, ma che sia anche dalla parte di coloro che poi l'informazione la fanno. Indaco è il colore dell'arcobaleno più difficile da vedere, è quello che contiene gli altri colori, per questo il nome è stato scelto per l'associazione dalla sua fondatrice Tiziana Lorini, oggi scomparsa a portare avanti l'attività, sua figlia e tanti volontari per un'esperienza che è diventata un punto di riferimento per il territorio di Vicchio, nella provincia di Firenze, ma non solo. Io sono davvero felice e orgoglioso che questa iniziativa, che è un'iniziativa che la Commissione Pari Opportunità ha voluto tanto insieme al Comune di Vicchio, si svolga qui in Consiglio regionale, per dare il senso di come un'istituzione come la nostra deve lavorare sempre per ridurre le distanze, per ridurre le disuguaglianze, che siano disuguaglianze di genere, disuguaglianze legate a questioni sociali. Il compito della politica deve essere sempre questo, l'esempio delle donne di Indago va esattamente in questa direzione e io voglio viverlo anche come uno stimolo alle istituzioni a fare sempre meglio, per questo oggi sono qui a portare il saluto mio di tutta l'Assemblea Legislativa. Siamo qua proprio per raccontare questa realtà, che è una bella realtà di un territorio e per raccontare come le donne di questa associazione, che siano le madri, le operatrici oppure le ragazze stesse, possono fare la differenza, lavorando insieme, lavorando per l'inclusione e dando a ognuna di loro non solo un aspetto di caregiver, nel caso delle madri e degli operatrici, ma anche e soprattutto dignità di persone che insieme possono fare la differenza per i ragazzi, per i loro figli e le loro figlie e che possono costruire veramente in un territorio la vera inclusione. Quello che noi cerchiamo di fare è di portare avanti quello che lei ci ha lasciato, di inclusione, di socializzazione, di gioia di vivere, ecco, e cerchiamo di farlo con lo strumento del teatro, che è quello che riusciamo a portare avanti. E quindi questa occasione per noi è veramente una ripartenza, perché c'è stato il Covid, c'è stata un'interruzione che non è mai avvenuta, perché comunque ci siamo sempre tenuti in contatto. E questa è veramente un'occasione per tutti noi che siamo venuti qui con il Pullman, quindi per noi è stato veramente una gioia essere qui e speriamo di farvi vedere quello che vogliamo rappresentare e quello che cerchiamo di fare. Presentato il libro della giornalista Cristina Lorenzi, Oltremare, racconti di banchina, cinque capitoli di storie di mare, di vento, di amicizia, cinque persone che hanno deciso di dare un senso, un completamento alla propria vita fra le onde. Oltremare sono cinque racconti di banchina, racconti di mare, sono un atto d'amore nei confronti del mare. Si parla di ambiente, si parla di amicizie, si parla di rapporti fra sorelle, si parla di quest'andamento lento che è l'andare in barca a vela. Sono cinque racconti, il primo è il mio, dove riporto tutti i tesori che raccolgo durante quest'andamento lento che è appunto andare in barca a vela, e gli incontri, le amicizie, tutto ciò che è in barca viene amplificato. Tre racconti sono, tre racconti veri di lupi di mare, quindi persone che hanno affrontato l'oceano, ognuno con una motivazione diversa per un certo punto della loro vita, hanno sentito il bisogno di affrontare il mare. Uno ha fatto il giro del mondo in quattro anni con la sua barca a vela. Non sono cacciatori di coppe, li ho cercati sulle mie banchine come persone che avessero un rapporto con il mare puro, quindi persone che non hanno voluto sfidare record o raggiungere risultati, ma semplicemente mettersi alla prova con l'infinito, con l'oceano. Il quinto racconto è il racconto delle donne della vela della rinascita, che è un progetto di cui fa parte la mia barca a Ginostra. È un progetto di velaterapia che si occupa di ridare una chance alle donne che hanno avuto difficoltà con terapie oncologiche o che hanno subito violenza. Questo è un capitolo molto importante del libro perché si parla di solidarietà vera, perché salgono a bordo persone disastrate e scendono persone che hanno voglia di ricominciare la loro vita. E noi viviamo in una terra particolare, lo dicevo, una terra che coniuga l'amore per la montagna con l'amore per il mare. Chi nasce in questa zona, in questa provincia, sa bene quanto sia importante il paesaggio, l'ambiente, il clima e coniugarsi con questa specificità, con questa particolarità ambientale. Il mare è parte di noi, tutti quelli che nascono in questo territorio si sentono parte integrante della marina, del mare e vivono il mare come un'autentica esperienza di vita, una parte imprescindibile del nostro essere nato in quel territorio. Tutto questo è quello che nelle pagine di Cristina Lorenzi emerge in ogni passaggio, in ogni frase, in ogni riflessione. Grazie a tutti.